Il brand Abruzzo volerà con Ryanair e Mistral e la strategia di promozione turistica decisa dalla Giunta regionale che ha messo sul piatto 12 milioni e mezzo di euro in 5 anni. Il punto della situazione sulla procedura di gara per la campagna di advertising finalizzata a promuovere e a commercializzare il brand Abruzzo nei mercati di riferimento tramite compagnia aeree è stato al centro di un incontro tra il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, il vice presidente d'assessore al turismo Giovanni Lolli, il direttore del Dipartimento Turismo Giancarlo Zappacosta, il direttore di Saga Luca Ciarlini, il responsabile delle DMC Abruzzo Claudio Ucci, il dirigente del Dipartimento Turismo Francesco Di Filippo e i vari funzionari regionali. Nel dettaglio dei quattro lotti di offerta previsti dal bando si è proceduto finora all'affidamento di tre gare per un totale di 9 milioni e 500 mila euro. Diverse le modalità di promozione del brand Abruzzo che vanno dal posizionamento di banner pubblicitari sui siti internet alla distribuzione di materiale promo pubblicitario a bordo degli aeromobili, dalla pubblicazione sulle riviste locali fino all'inserimento del logo promozionale della regione Abruzzo sui telini poggiatesta degli aerei o dagli adesivi con il logo sulle cappelliere. In programma anche l'offerta a bordo degli aerei di snack dolci e salati prodotti da imprese abruzzesi. Inoltre le bellezze paesaggistiche della regione saranno promosse anche grazie alla proiezione di brevi filmati nei gate d'imbarco degli aeroporti. L'obiettivo della regione è quello di incrementare i flussi turistici verso l'Abruzzo.